Alcune migliaia di consumatori tedeschi saranno obbligati ad uscire di casa. I dipendenti di Amazon Germania cominciano oggi uno sciopero dalla tempistica pericolosa per la più grande azienda di vendita online al mondo, nella settimana prima delle festività natalizie. Lo sciopero sancisce il fallimento di un negoziato sulle rivendicazioni salariali durato mesi.